Dunque, noi ci eravamo lasciati il giovedì scorso su questa tabella, ciò che cercheremo di fare oggi, o perlomeno di cominciare a fare oggi, dipende fino a che punto riusciremo ad arrivare, e prendere un po' a questo punto una scorciatoia che ci aiuti a imparare, a gestire nelle nostre applicazioni web, delle azioni in risposta a questi eventi. E quindi di fatto fare un po' di programmazione lato client, di cui qualcosa già sapete, perché l'avete già fatto nel corso precedente, per poi passare velocemente alla programmazione di tipo asincrono, quindi IAX, che poi ci porterà all'integrazione mediante mashup più avanti. Io cercherò di prendere, dicevo, delle scorciatoie, nel senso che useremo una libreria abbastanza famosa, molto utilizzata, che si chiama jQuery, anziché programmare tutto direttamente utilizzando il linguaggio javascript, diciamo così, senza nessun ausilio esterno. Vedremo che cercherò almeno inizialmente di farvi gli esempi, diciamo così, nativi, come uno li dovrebbe fare lavorando solamente con javascript, e poi vedremo che, ad esempio usando jQuery, ma poi ci sono molte librerie analoghe a questa, la stessa cosa si può fare in un modo molto più semplificato. E ovviamente noi, dove c'è scritto semplificato, mettiamo sempre la firma, soprattutto perché ci dà un risultato migliore in tempi di sviluppo minori e gestisce anche tutto il problema della compatibilità tra i diversi browser. Ma andiamo per gradi. Partiamo magari da un esempio, fissiamoci in mente un esempio, di una funzionalità che potremmo voler implementare. Supponiamo, non so, qui avevamo la pagina ipotetica dei clienti, dove adesso ci sono solo delle frasi, diciamo così, senza alcun senso, ma immaginiamocelo, magari possiamo provare a scriverla, un elenco di aziende e dietro ciascuna azienda può esserci una breve descrizione dell'azienda stessa. Quindi azienda 1, descrizione, azienda 2, descrizione, azienda 3, descrizione e così via. Allora una cosa che potremmo voler fare è fare in modo che quando carico la pagina compaiono solamente i nomi dell'azienda e poi cliccando sull'azienda compaia la descrizione. Quindi di fatto facendo aprire e chiudere una porzione di pagina, come c'è in molti siti in cui quando clicchi su una voce si apre il dettaglio. Poi possiamo decidere se questo dettaglio lo facciamo aprire sovrapposto alla pagina oppure se, diciamo così, spostare il resto del contenuto verso il basso, ma questa è una questione semplicemente di posizionamento mediante i fogli di stile. Allora cosa vogliamo fare? Noi vogliamo, in un certo senso, fatemi prendere Word per avere un esempio, azienda 1, azienda 2, azienda 3, questi sono i nomi dell'azienda, mi compaiono magari come un elenco nella pagina. Quindi nella mia pagina elenco dell'azienda voglio che sia fatta così. Dopodiché voglio che quando l'utente clicca su azienda 1, questa temporaneamente presenti una sua descrizione, questa qui è una descrizione molto accurata, di ciò che fa l'azienda, dove si trova, qualche informazione, adesso in questo momento non mi interessa il contenuto specifico, mi interessa la modalità di interazione. Poi quando l'utente riclicca su azienda 1, questo scompare nuovamente, la lista si collassa nuovamente attorno alla condizione di partenza, quando clicco su azienda 3 comparirà invece il dettaglio su azienda 3. Quindi ho del contenuto che voglio mostrare o nascondere e ho delle voci che di per sé non sono dei link, non sono dei bottoni, ma sono delle parti di pagina che voglio rendere attive. Allora io so già che questo si può fare perché so che tutti gli elementi dell'HTML, almeno così mi suggerisce questa tabella che abbiamo visto, tutti gli elementi dell'HTML sono in grado di generare ad esempio un evento on click, quando l'utente dovesse cliccarci sopra. Allora il nostro problema diventa, innanzitutto creare la pagina in questo modo, dopodiché dire che quando l'utente clicca su uno di quegli elementi, azienda 1, azienda 2, azienda 3, voglio che sia eseguito del mio codice, una mia funzione che è in grado di gestire questo click. Questa funzione che cosa dovrà poi fare? Dovrà far comparire una porzione di testo. La cosa più semplice, il primo passaggio che faremo è faremo in modo che questo testo sia già presente lì fin dall'inizio, c'è già, ma con il CSS lo rendiamo nascosto, invisibile. E quindi lo scopo di questa funzione non sarà andare a fare una chiamata al server per reperire questa descrizione, perché magari ce l'ha già, ma semplicemente lavorare sui fogli di stile dicendo guarda questo elemento, questo div, che finora era invisibile, adesso rendilo visibile, o quando era visibile rendilo nuovamente invisibile e così via. Quindi giochiamo con le proprietà del CSS. Quindi la prima metà del lavoro è facile, identificare gli elementi della pagina che devono causare qualche azione quando vengono cliccati. Allora adesso facciamolo in HTML, così riusciamo effettivamente a lavorarci. Quindi la nostra pagina che ci interessa è nel modulo di contenuto, la pagina View Customers, che adesso la modifichiamo, la rendiamo un pochino... Ovviamente questa funzionalità a regime dovrà prendere l'elenco delle aziende dal database. Ma adesso per il momento ci stiamo concentrando sull'interfaccia, quindi mettiamo dei contenuti creati a mano, sapendo che poi questo diventerà il lavoro che una View farà prendendo i dati direttamente dal database. Quindi per ora lavoriamo, questa è la lista dei nostri clienti attuali e la creo sotto forma di lista puntata. Ogni elemento della lista è un item, azienda Pinco, per non chiamarle 1, 2, 3, l'azienda Pallino e l'azienda Pinco Pallo, che è la fusione delle due. E questo, se salvo questo e ricarico la pagina, ovviamente mi dà l'elenco delle aziende. Ne ho messe 3, potrei averne messe 30. Tutto questo testo qua sotto non ci serve più, adesso lo possiamo cancellare. Ma prendiamo dei frammenti di questo testo come se fossero la descrizione di ciascuna di queste aziende. Quindi una descrizione che va a finire dentro ciascuno di questi list item. Quindi tornando all'HTML io posso prendere una parte di questo, la prima frase, e la metto dentro questo, la metto con un div, in modo che mi vada a capo. la metto dentro il list item perché sono dentro una UL, quindi dentro un UL possono esserci solamente degli LI. Se metto altre cose devono essere dentro l'LI stesso, altrimenti non è valido rispetto al tag UL che non può contenere dei div a caso. Poi qui la stessa cosa, ad esempio questa altra frase qui, che non vuol dire niente, è lo stesso ma è più adatta alla seconda azienda e la stessa cosa la conclusione che è tanto per mettere dei contenuti. E quindi il risultato sarà che le varie aziende hanno ciascuna al di sotto una breve, breve o lunga o media, descrizione, informazioni. Adesso noi vogliamo agire sui fogli di stile per fare in modo che magari il nome dell'azienda sia un pochino più in evidenza, mettiamo magari un grassetto, e la descrizione invece sia nascosta, non compaia. Allora questo è un lavoro esclusivamente di fogli di stile, di CSS. Per poter fare in modo che i CSS si applichino nello specifico a questa pagina, ovviamente dovrò dare dei nomi di class a questi elementi, a questo li e a questo div che lo contiene, che siano unici, non vado a usare il nome di class che posso usare in altre pagine. Quindi visto che questa è una pagina you customers, magari io chiamo questa lista, la chiamo class uguale customers list. ho tutti i nomi di class, i nomi degli id, gli id non sarebbero un problema perché sarebbero univoci, ma i vari nomi. Visto che CSS purtroppo per scelta includiamo un CSS unico su tutto il sito, dobbiamo fare in modo che adesso dobbiamo scrivere delle regole che si applichino solamente a questa pagina. Se avessi chiamato questo well class uguale elenco, così, ci sarebbe stato il forte rischio che altre pagine del sito da qualche parte usassero la classe elenco e quindi i CSS che sto sviluppando per questa pagina si applicherebbero a sproposito. Quindi anche qua giochiamo sui nomi, mettiamo magari i nomi un pochino più lunghi ma ciascuna definizione la usiamo col nome del modulo, del modulo di contenuto che la contiene. Quindi abbiamo questo che mi marca la classe customer list. Questo già mi basta per poter cambiare totalmente il vestito alla mia applicazione, a questa pagina perlomeno, perché se io vado prendere i template, gli stili, avevo visualstyle.css che mi dava gli stili generali, io posso aggiungere degli stili qua in fondo, potrei fare un file separato, puoi includerlo oppure aggiungo anche qua in fondo, custom styles for page view customers.gsp. Aggiungo qua sotto delle definizioni che si applicano a quella pagina. Allora, che cosa volevo fare? Volevo che questo paragrafo fosse nascosto e questa voce fosse in grassetto. Va bene, è facile. Basta questa voce e... Torno all'HTML, scusate se vado avanti e indietro, ma... È un li all'interno di una ul che ha come classe customer list. Ok? Allora vuol dire che ul.customer list li. Questo è il selettore che mi serve per identificare quegli elementi. giusto? Ha un li interno a un ul che ha come classe customer list. E di questo dovrò dare la proprietà che, ad esempio, tech, chi se lo ricorda, ho messo in grassetto. Eccolo qua. Font, weight, due punti, bold. Ok? Font, weight, due punti, bold. Adesso se tutto va bene, facendo un refresh, e qui lo facciamo di continuo, passo per volta, non ha funzionato. Non è in grassetto. ul.customer list li. Customers, ecco qua questa S maledetta. Salvo. ricarico. Adesso è in grassetto. Purtroppo è grassetto anche questo testo. Quindi ho sbagliato. Devo dire, va bene, questo va in grassetto, ma il suo contenuto non lo è più. Va bene, faccio in fretta. Basta che io faccia un'altra riga, un'altra regola in cui dico, vabbè, qualunque cosa però è contenuta al suo interno, non la voglio più bold, la voglio normal. Vediamo se funziona. Lo sto facendo sul momento, quindi può darsi che... Ecco, non mi venga il primo colpo, ma questa volta mi è venuto, sono fortunato. Vabbè, ma qui non c'è nulla di speciale. Poi io voglio, che io ho messo in grassetto tutti gli list item di questa lista, ma ho rimesso noi in grassetto gli eventuali contenuti ulteriori annidato dentro il list item. Il passaggio successivo è nascondere questi. Ma questo è facile perché c'è un'altra proprietà di CSS, adesso non lo faccio, non lo applico a tutti gli elementi, ma solamente i div. Non si sa mai che cosa vorrò metterci domani. Di dentro. Quindi ho tolto il grassetto da tutto il contenuto dell'LI. Ma poi in particolare un div dovrò dirgli che lo voglio invisibile. Per questo vado a spulciare i libri di CSS che mi dicono che c'è un attributo display che è quello che mi serve. Display va a impostare quale tra i vari algoritmi di layout il browser utilizzerà per posizionare questo blocco, in questo caso questo div. e questi sono l'elenco degli algoritmi di layout possibili. Molti hanno a che fare con le tabelle che è ovviamente la cosa più complicata da impaginare. Ma i più semplici sono inline e quindi vuol dire tratta questo blocco come un testo all'interno di un paragrafo e quindi non andare a capo ad esempio. Il div per default va a capo, non è inline. Oppure c'è block che è il comportamento predefinito per un paragrafo o per un p o per un div. Cioè vai a capo occupa tutta la larghezza e impaginano in questo modo e normalmente il default attualmente è block. Questi div sono impostati come display block. Poi ci sono altri due in fondo anzi questo che mi interessa è il none display due punti none nessuno cioè vuol dire questo blocco non visualizzarlo non applicare nessun algoritmo di layout quindi questo blocco non farà parte del contenuto della pagina o meglio fa parte del contenuto dell'html ma non viene visualizzato. Quindi mettere un display due punti none rende di fatto invisibili i blocchi di testo che sappiamo esserci li abbiamo visti un attimo fa. Adesso il nostro lavoro qual è? Il nostro lavoro è quello di andare a agganciare fin qua non abbiamo fatto nulla di veramente dinamico abbiamo solo giocato con i fogli di stile ma preparando il contenuto della pagina ad essere poi usurpato dalle nostre funzioni javascript. adesso noi dobbiamo scrivere una funzione che sia in grado di selettivamente non tutti insieme selettivamente dimostrare uno o due o tre di questi blocchi di testo. Allora se lo devo fare in modo selettivo questi blocchi dovranno avere dovrò dargli un nome dovrò avere un modo per identificarli. Allora questo modo per identificarli torno all'html sarà quello di marcare questi div in un certo modo diverso perché altrimenti so che sono tutti div all'interno di LA e all'interno di UL ma poi ognuno è diverso ognuno è relativo a un'azienda diversa. Allora gli do un ID identifico in qualche modo ciascuno di questi quindi lo chiamo magari azienda 1 poi avrò un altro ID che chiamo azienda 2 poi avrò un altro ID che chiamo azienda 3 questi sono nomi l'ID deve essere un valore univoco all'interno della pagina io questi ID non li uso nei fogli di stile non mi interessa perché non ho bisogno di fare in modo che il secondo abbia uno stile diverso dal terzo in generale li userò poi dinamicamente quando voglio andare a fare comparire scomparire devo dire allora dovrò cambiare l'attributo display di azienda 2 e da none farlo diventare block oppure da block farlo diventare none allora mi potrò fare due funzioni una che prende un blocco lo rende visibile l'altra che lo rende invisibile ad esempio e me le posso scrivere in javascript e dovrò fare in modo che queste funzioni vengano richiamate da questa pagina e poi dovrò fare in modo che il browser le richiami queste funzioni quindi un conto è scriverle un conto è includerle devo includere il sorgente javascript all'interno della pagina e il modo il posto migliore in cui includere è dentro il template dove tutto sommato tutte le inclusioni degli stili includo anche gli script e poi dovrò fare in modo che questi vengano chiamati quando l'utente clicca sull'li allora come sempre passo la volta scriviamo le funzioni le includiamo e poi facciamo in modo che vengano chiamate scrivere funzioni significa nel nostro progetto creare un nuovo file javascript lo creiamo magari dentro qui abbiamo template styles creiamo una nuova cartella che chiamiamo scripts dentro template e dentro scripts potrei creare un nuovo file javascript che contiene le funzioni che faranno il lavoro e lo chiamo qui dentro potrei chiamarlo customer.js così si accoppia a view customers e qui sto creando un file javascript mi da il browser mi da l'editor cliff mi da una pagina vuota in cui dovrò scrivere le funzioni per modificare lo stato di visibilità quindi potrei immaginare di avere una funzione ad esempio show customer description che ha un parametro che sarà l'id di questo customer e poi un'altra funzione qui non vuole il var scusate un'altra funzione hide customer description a cui passo l'id allora queste funzioni le sto scrivendo in un file javascript questo file javascript però per poter essere eseguito dovrà essere incluso all'interno della pagina quindi per ora non hanno body queste funzioni le scriveremo tra un secondo ma cominciamo a includerle così le includiamo dal template in realtà qui di nuovo sto prendendo un'altra scorciatoia che poi più avanti cercheremo di sistemare perché questo script sarebbe utile solamente nella pagina view customer quindi la pagina template dovrebbe eventualmente avere la conoscenza per sapere quali script includere in funzione della pagina in cui si trova ma per il momento non andiamo ad aggiungere questo livello di complessità semplicemente nel led della pagina avevamo i fogli di stile in questo caso anche qua ce n'era uno solo che poi a sua volta ne includeva altri anche qui non ci poniamo troppi problemi mi metto qua sotto e includiamo uno script per il momento abbiamo solo questo script poi quando cresceranno ci porremmo il problema di spezzarlo in più file script cosa deve includere deve includere allora il tag script ha due tag due attributi uno è type che deve essere sempre text barra javascript e l'altro è il source che dice dove si trova il file javascript che vogliamo includere fai javascript e dopodiché lo chiudo fate solo attenzione qui è una questione se vogliamo di sintassi fine ma poi diventa difficile da debuggare normalmente quando noi abbiamo un tag che viene immediatamente chiuso usiamo sempre la scorciatoia di mettere uno slash subito qua che vuol dire chiusura immediata chiusura automatica del tag e funziona sempre tranne che per lo script perché alcuni browser un po' più anzianotti compreso alcune versioni di internet explorer se chiudo il tag con la sbarra anziché chiuderlo esplicitamente con barra script lo ignorano e non lo eseguono per cui poi perdete le giornate debuggare per colpa di quello source uguale devo includere il file allora il file si trova in una directory prendiamo qua esempio dal modo in cui includevamo un foglio di stile costruendo il percorso completo in cui si trovava request.getcontestpat ricordiamoci che è il nome dell'applicazione quindi sarà slash energy community modus template non è testize my scripts customers.js ok perché è tutto rosso non lo capisco ho sbagliato una virgoletta o qualcos'altro title barra title niente si era confuso lui l'avevo confuso io facendo troppe modifiche allora finora non è ancora cambiato nulla nel senso che se io ricarico questa pagina ricordatevi quando non si vede sulla tastiera ma quando modificate gli script oppure i css css di un sito a volte se fate la ricarica della pagina l'aggiornamento il browser si accorge che il css o il javascript ce l'ha già in cache e non lo richiama mentre la pagina css la richiama ogni volta i file inclusi non è detto che lo faccia se ce l'ha già in cache quindi una volta che modificate qualcosa il browser non se ne accorge ricordatevi di fare un reload tenendo premuto lo shift shift reload obbliga il browser a ricaricare tutto immagini fogli di stile anche se ce l'ha già in cache ok se per caso capitasse vi pare che lui non se ne accorga allora andiamo solo a vedere se ok test javascript energy community modules e questo qua è il file giusto perfetto viene incluso correttamente allora come faccio a farlo chiamare beh dovrò registrare un gestore di evento all'interno dell'elemento html quella è una funzione dove siamo qua nel mio html devo fare in modo che quando l'utente clicca all'interno di questo elenco azienda pinco venga chiamata la funzione show come si chiamava show customer description del customer azienda 1 questo è più facile da farsi che da dirsi perché basta semplicemente aggiungere l'evento onclick uguale all'elemento li quindi io posso di tutti questi eventi che erano indicati qua tutti questi eventi corrispondono al nome di un attributo che possa aggiungere qualunque elemento html tra quelli supportati che sono descritti nella colonna di sinistra e quindi dice onclick lo posso mettere su qualunque elemento e l'attributo il nome dell'attributo è onclick è relativo all'evento che sto incercettando questo evento verrà generato quando uno fa l'azione corrispondente il click all'interno di tutto il contenuto dell'ali quindi sia l'elenco che il div quando questo ovviamente sarà visibile e in questo caso dirò qui tra virgolette cosa scrivo scrivo un frammento di javascript che è ciò che deve essere eseguito quando l'utente clicca su quel quando l'utente genera fa in modo che venga generato quell'evento in questo caso sarà show customer description di tra virgolette azienda 1 occhio che qua ci sono delle lotte di virgolette magari mettiamo gli apici singoli di qua così ce l'abbiamo più facile visto che l'html accetta sia apici singoli che apici doppi usiamo l'apice singolo come delimitatore del valore dell'attributo e così ci rimane l'apice doppio non abbiamo bisogno di fare l'escape per usarlo come parametro quindi però l'abbiamo fatto sull'azienda 1 poi la generalizziamo show customer description azienda 1 vuol dire che quando io ricarico questa pagina che ho qui shift reload cliccando su azienda pinco in teoria viene chiamata quella funzione non me ne accorgo perché quella funzione non fa nulla allora solo per avere una verifica proprio minima che la funzione venga chiamata fatemi mettere un alert dentro quella funzione eccomi e poi ci metto l'id così vediamo che il parametro venga passato correttamente ok a questo punto cliccando alert apre una finestra di pop up da non usare mai se non per scopi di debugging allora torniamo alla pagina ricarichiamo il tutto cliccando su azienda picco mi dice eccomi eccomi azienda 1 quindi la funzione viene chiamata se viene chiamata vedo cosa devo fare devo implementarla cosa deve fare con la funzione ma niente di più semplice deve trovare il div che ha come id azienda 1 il parametro che gli ho passato e cambiargli lo stile come fa deve andare a mettere le mani dentro l'html allora noi la volta scorsa vi ho fatto vedere una figurina in cui diceva ma in realtà esiste un modello oggetti che rappresenta la pagina che è il cosiddetto DOM che permette di fare queste operazioni che permette di ottenere degli oggetti corrispondenti a certe richieste quindi è possibile ricercare o navigare questi oggetti e una volta che ho ottenuto un oggetto modificarne gli attributi il DOM è una standard del V3C su cui non vi voglio far spendere troppo tempo se non raccontare le classi principali di cui dovremo servirci allora in realtà ci sono due livelli c'è il DOM come definizione astratta e poi ci sono le API in JavaScript per accedere al DOM le API le funzioni in JavaScript hanno al 99% lo stesso nome delle funzioni dello standard ma ci sono alcune piccole differenze ma le vediamo concentrandoci sulle cose essenziali il DOM è un albero di nodi che fanno tutti capo a un tipo astratto che si chiama node alla radice di tutto c'è un nodo unico che si chiama document che è di tipo document che rappresenta l'intero HTML document al suo interno può contenere degli altri nodi di tipo element in realtà ne contiene esattamente uno solo più eventualmente altri nodi di tipo comment o altre cose che non ci interessano c'è il document che rappresenta il documento che contiene un elemento che è sempre l'elemento HTML perché ogni documento deve sempre iniziare e finire con HTML barra HTML poi questo elemento HTML a sua volta e vado a vedere quest'ultima regola qua in fondo un elemento può contenere altri elementi può contenere del testo può contenere dei commenti o altre cose ma questa regola dice un elemento contiene altri elementi poi ovviamente non è che ogni elemento può contenere ogni altro tipo di elemento ci saranno delle regole ma l'albero è strutturato in questo modo in una struttura padre figlio quindi i tipi di dati che ci interessano sono il documento l'elemento e il testo cos'è il testo? il testo è ciò che scriviamo al di fuori dei tag come facciamo a vederle queste cose? ma possiamo vederle direttamente sulla nostra pagina io ho installato qua un'estensione senza la quale programmare in javascript sarebbe impossibile su firefox ma anche se usate chrome ad esempio c'è gli strumenti per i developer che sono molto simili si copiano vicenda e si rincorrono il che è bene che mi apre questo quest'estensione si chiama firebug probabilmente la conoscete già che apre sul documento corrente una vista che ci fa vedere il dettaglio di tanti dettagli no? da vari punti di vista ad esempio c'è la finestra html nella quale posso esaminare le varie parti della pagina entrando aprendo e chiudendo i vari blocchi e tra l'altro sincronizzato con la vista nel senso che man mano che mi sposto su sorgente html qua sotto viene evidenziato la porzione di pagina corrispondente no? in realtà noi sappiamo già dove vogliamo andare vogliamo andare qui quindi in realtà esiste una funzione molto più veloce che questa frecciolina qui che dice vabbi a prendere questo clicco e mi seleziona mi trova direttamente la parte di codice che è responsabile per generare quella porzione di pagina utilissimo questo lo potete fare su qualunque sito perché lavora direttamente nel browser quindi se volete avete un sito e vi piace come ha fatto una certa cosa vi è facilissimo andare a prendere lo spezzone di html che lo genera noi lo conosciamo già questo html ul class li on click eccetera eccetera ma adesso non interessa qualcosa che c'è scritto a fianco qui a fianco mi fa vedere i fogli di stile che sono applicati le regole dei fogli di stile che sono applicati a quell'elemento dicendo dove le va a pescare ereditato dal main content ereditato dal body eccetera eccetera se vado sull'li mi farà vedere anche una riga ereditata da visualstyle.css la regoletta che ho scritto io customer list li font weight bold tra l'altro mi permette di giocare in tempo reale applicando disapplicando la regola modificandola senza salvare nulla ovviamente solamente nella pagina corrente così come c'è l'elemento layout che è fondamentale per fare impaginazioni un po' sofisticate che mi fa vedere tutto il box il box model e css riassunto attraverso queste scatoline annidate che mi fanno vedere questo elemento quanto ho di padding quanto ho di border quanto ho di margin e mi permette volendo di giocare modificarli e vedere che effetto fa sul layout ma ovviamente non stiamo giocando su questo adesso e poi c'è l'elemento DOM il riquadro DOM che mi fa vedere il contenuto del nodo dell'oggetto DOM corrispondente all'elemento in questo momento selezionato quindi esploriamo un po' questo LI così capiamo come sono fatti questi nodi DOM beh in realtà moltissimi attributi fatemelo aprire meglio sono sempre sull'LI ma la cosa essenziale è le cose essenziali sono che da un nodo posso sempre spostarmi sui nodi vicini nell'albero dell'HTML quindi ogni nodo avrà sempre un attributo che si chiama parent parent nod questo qui che punta al nodo che lo contiene quindi sono sull'LI il parent nod punterà al nodo UL che lo contiene qui interattivamente se apro questo parent nod mi fa vedere le proprietà del nodo padre quindi qua dentro sto vedendo le proprietà di un altro nodo quindi dentro il nodo ho un riferimento al nodo padre così come ho sempre riferimento ai nodi figli che ho un riferimento al primo figlio first child all'ultimo figlio last child oppure a tutti i figli children che di fatto è un array di lunghezza 1 che contiene i vari figli che ha questo elemento e dice che in questo caso i figli c'è il figlio a uno solo che è il div quindi una volta che ho in mano un nodo volendo con le proprietà in javascript ho una variabile e posso passare al padre posso passare al figlio e così via e di questi nodi che cosa posso fare qui le proprietà ce ne sono a bizzeffe ma c'è quella che ci interessa di più per poter poi maneggiare il contenuto della pagina è la proprietà style che vedo qua sotto la proprietà style è il riassunto dei fogli di stile applicati a questo elemento e contiene se lo apro tutta una serie di sottoproprietà queste sono quelle specifiche di Mozilla poi ci sono quelle standard tra cui da qualche parte anche la proprietà display in questo caso vedete che la display è stata a stringa vuota perché non è stata impostata su quell'elemento ma è stata realizzata dai fogli di stile ma io posso tranquillamente su questo elemento modificare la proprietà display in javascript quindi se io in javascript ottengo il riferimento al nodo DOM non di quella li ma del div che lo contiene del div contenuto e poi una volta che ho questo nodo DOM lo chiamerò nodo del div punto style punto display uguale block e lo farò comparire quindi ragiono non tanto in fogli di stile non tanto in html ma in proprietà di oggetti che sono la controparte dei nodi della pagina poi vi avevo anticipato prima che lo faremo adesso lo faccio direttamente in javascript poi useremo delle librerie che ci rendono le cose molto più semplici per questo non entro troppo nel dettaglio adesso qui lascio un po' di cose non dette l'unico problema che ci rimane è come faccio a scoprirli questi nodi io ho detto se avessi riferimento in javascript al nodo che contiene quel div potrei renderlo visibile o invisibile come faccio a ottenerlo lo posso ci sono delle funzioni predefinite ad esempio io normalmente non sono mostrate perché sono applicate a tutti gli elementi sarebbe solamente un overred ma ci sono delle funzioni guardate qua get guardate no perché è troppo piccolo è poco luminoso ma fidatevi get elements by class name get elements by class name è un metodo che mi dà un array di elementi in javascript ovviamente tutti gli elementi che hanno quella classe get elements by tag name tutti gli elementi che hanno quel tag il tag vuol dire tutti gli li tutti gli ul tutti i div tutti il nome di un tag tutte le immagini oppure dove l'hanno messo get element by id che è più importante di tutti non lo trovo get element by id l'ho messo sopra vabbè fidatevi c'è quindi ci sono delle funzioni che poi se andiamo a spulciare meglio quando abbiamo un attimo più di tempo le specifiche del DOM le vediamo ma che sono queste get elements by tag name e tutti quelli che hanno un certo tag ma soprattutto vabbè by id che mi permettono di fare quello che dicevo quindi io voglio in javascript avere riferimento del mio nodo div che ha come id di cui conosco l'id conoscerli id significa sapere tutto perché è la chiave diretta che va all'elemento quindi var lo chiamo il div ma potrei chiamarlo in qualunque modo questa variabile get element by id è una proprietà di document tutte le operazioni sul DOM per noi il DOM è rappresentato dall'oggetto document con la d minuscola che è un oggetto di classe document con la d maiuscola l'oggetto document rappresenta il documento il DOM il modello oggetti della pagina correntemente visualizzata nella quale questo script sta girando io chiedo a questo document per favore dammi get element by id il riferimento a un element un elemento del DOM che ha un certo id che gli sto passando che è quello che ho ricevuto quindi questo div sarà un oggetto di tipo element vedete che get element by id riceve una stringa e restituisce un element è un metodo della classe document con la d maiuscola una volta che ho questo div è un attimo andare a cambiare la visibilità qui devo fare uno showcast una description quindi dovrò fare div punto style punto display uguale block div è riferimento all'elemento il cui id è stato passato noi sappiamo che si chiama as1 as2 as3 questo div è un elemento di cui prima esplorandolo con firebug abbiamo visto alcuni elementi alcune proprietà queste proprietà sono tutte accessibili attraverso attraverso le proprietà javascript tra cui la proprietà style la sottoproprietà display eccetera quindi cambiare un css di un elemento significa semplicemente andare a reperire l'elemento e cambiare il valore di una sottoproprietà della proprietà style tante parole ma bisogna vedere se funziona ricarichiamo questa pagina cliccando su azienda pinco è comparso adesso in realtà purtroppo quando ci riclicco non scompare perché mi manca la seconda metà e poi però posso fare almeno la parte di comparsa della seconda e della terza quindi però questo oramai lo faccio in html azienda pinco azienda pallino vi faccio vedere azienda 2 l'azienda pinco pallo vi faccio mostrare azienda 3 e salvo a questo punto se torno nella pagina la ricarico devo ricaricare da zero clicco sul secondo me lo fa vedere clicco sul terzo me lo fa vedere ognuno mi fa vedere quello corretto perché gli ho passato l'id dimmi è un altro devi cambiare il cursore del css puoi fare in due modi quello che lui ha chiesto se sei chiaro io qua vado sopra il cursore non mi dà nessun suggerimento del fatto che io possa cliccarci sopra mentre invece qua succede ok il cursore cambia forma allora io lo posso fare in due modi o c'è una proprietà mi pare di uno style.cursor che due punti hand e quindi posso dire su quell'elemento la manina il cursore farlo diventare manina oppure posso prendere il nome dell'azienda l'azienda pinco lo metto dentro un a un tag a un link che poi non linka da nessuna parte però il browser automaticamente sull'a sull'over degli elementi a cambia la forma del cursore quindi sì sicuramente si può far tutto adesso poi ci sono le cose antipatiche che quando io clicco su un'azienda vorrei che la sua descrizione venisse espansa ma quella delle altre venissero contratte e poi quando riclicco sul nome di un'azienda vorrei che venisse chiusa però questo si complica un pochino perché vuol dire che io qui nel long click ho l'azione di show in realtà per fare un nascondere dovrei richiamare una volta che è visualizzato dovrei fargli richiamare l'azione di hide di nascondi per cui quello che potrei fare è cambiare l'azione e avere un'azione di toggle che se è mostrato lo nasconde se è nascosto lo mostra cambia commuta lo stato di visibilità di quell'elemento quindi vorrà dire che nel mio customer si aggiungerò allora ovviamente l'hide sarà identica ma mette none al posto di block come display e poi mi devo fare la funzione toggle che va sempre a prendere questo div e si chiede se il display è none cioè se attualmente non è visualizzato allora mostralo altrimenti nascondilo un po' di punti e virgola non fanno male ok quando si arriva poi la programmazione che si agiava scritto che si agiava alla fine si ricade sempre su cose molto semplici quindi vediamo se funziona il toggle chiama un elemento e io vado a reperire il div di quell'elemento vado a vedere l'attributo display se in questo momento è visualizzato o no e nel caso se non ho sbagliato le cose si perde un click rifaccio perché faccio il sonoro dei click vado sulla voce clicco su pinco non succede nulla riclicco compare riclicco posso anche cliccare qua sotto scompare quindi il primo viene perso gli altri li trova il problema è mio sempre del programmatore il problema è perché il primo click la funzione toggle viene chiamata ma l'avevamo anche visto prima non l'ho dimenticato da 30 secondi fa che l'attributo display per quell'elemento non è impostato quindi la prima volta che passo di qua div.style.display è stringa vuota stringa vuota non è uguale a none e quindi chiamo subito la hide in realtà dovrei chiamarla show cioè quindi se è none oppure è stringa vuota allora devo chiamarlo show quindi nel primo caso la prima volta che ci passo dovrei e così dovrebbe funzionare quindi se è none oppure non c'è nulla vuol dire perché lo so che il CSS l'ha ragione nascosta e quindi devo mostrarlo quindi qui c'è una conoscenza su che cosa fa il CSS a monte riprovo ricarico la pagina clicco su pallino al primo colpo me l'ha dato adesso c'è ancora qualcosina che manca nel senso che non c'è nulla che mi chiude gli elementi nel momento in cui io ne apro uno nuovo dovrei a un certo punto quando apro un elemento obbligarmi a chiudere tutti gli altri ok? e come faccio? eh dovrei chiamare l'haid di tutti gli altri ma se io ho l'id di uno come faccio a sapere quali sono gli altri? allora un modo che non consiglio a nessuno se avete a cuore la vostra salute è on click toggle customer description azienda 1 punto e virgola haid customer description azienda 2 punto e virgola haid customer description dell'azienda 3 poi sull'azienda 2 mettiamo l'haid della 1 e della 3 sull'azienda 3 mettiamo l'haid della 1 e della 2 ma non andiamo tanto lontano dovremmo avere un metodo del tipo nascondi le tutte nascondi tutte le aziende quindi chiama l'haid a tutto allora vediamo se siamo capaci a scriverlo un metodo del genere un metodo che possiamo chiamare idle scusate io lo chiamo un metodo ma in realtà è solamente una funzione al customer e poi vediamo se abbiamo bisogno di qualche parametro allora questa qui in realtà non ha un lavoro molto difficile da fare nel senso che dovrà fare un ciclo un ciclo non so un for qualche cosa non lo so ancora come sarà fatto e dentro dovrà chiamare la hide customer description di una serie di dd uno per uno una per una la mia difficoltà è che questi dd non li ho devo ottenerli ma io potrei sapere come far ottenerli perché sono tutti gli id degli elementi div che sono figli di elementi li che sono figli di un ul che ha come classe customers list lo stesso ragionamento che facciamo sui fogli di stile lo possiamo fare in javascript alla fine sia il css che il javascript lavorano sullo stesso modello che il dom entrambi quindi ci ragioniamo nello stesso modo vediamo nello stesso modo le cose quindi io posso navigarmi il dom è una cosa che normalmente si cerca di evitare ma lo facciamo per capire poi apprezzeremo come si fa evitarlo io posso chiamo ul ottenere il riferimento al nodo dom della mia stringa ul e me lo faccio dare dal document get elements by by class class name si chiama se non sbaglio andiamo a vedere perché poi nell'altro completamento lui non li fa mai vedere tutti perché purtroppo in javascript non essendoci il tipo rigido degli elementi delle variabili l'editor può solo più o meno indovinare di che tipo può essere quella variabile var e quindi che tipo di metodi proporvi purtroppo però c'è un get elements by by class scusate l'abbiamo vista prima nel fireback che è qua get elements by class name allora possiamo usare questo metodo get elements by class name e sappiamo che l'ul sarà speriamo sia l'unico elemento che ha come class name customers list in realtà sarà un fortunato se è l'unico questo get elements by tag name come dice il nome plurale del metodo mi restituisce un elenco di elementi in realtà quindi questa variabile non è altro che sono i possibili ul sperando che ce ne sia uno solo e qui ci metto un bel commento controlla che sia l'unico dico che il mio ul è il primo di quell'elenco quindi è ul possibili ul punto item di 0 se ricordo correttamente la sintesi javascript o qua anche direttamente scusate direttamente con le parentesi graffi quindi aggiungiamo solo un commento questo qua è l'elenco di tutti i nodi con classe customers list se va bene ce n'è uno solo il primo di tali nodi dovrebbe essere l'unico adesso questo nodo è l'ul torniamo sul browser e facciamoci dare siamo qua siamo su questo ul io voglio a questo punto navigare su tutti i figli di questo ul perché non so quanti sono ma non importa ho un array che si chiama children vedete che qua questo array children contiene tre sotto elementi che sono di tre li quindi ho un elenco non bat var elenco li che sono i children delle ul ok avevo un elenco di ul possibili ne ho preso il primo che dovrebbe essere l'unico qui quest'unico prendo i figli è un array adesso vado ad analizzare questo array finalmente scrivo un ciclo for i uguale 0 conto i figli i minore di elenco li punto size mi pare si chiami size no length scusate length gth i più più var il singolo li sarà elenco li di l'iesimo quindi ero sull'ul dall'ul mi sono fatto dare i children che è un array di questo array navigo il primo secondo il terzo elemento quindi il primo elemento questo 0 qui questo li lo ottengo come children di 0 ok il primo li adesso questo children di 0 non me ne faccio ancora nulla ma perché devo andare a prendere a sua volta il suo figlio che è il div giusto perché il children di 0 sto codice lo scrivo vedete avendo il browser aperto e navigando il DOM in modo interattivo nel frattempo scrivo le istruzioni javascript per fare la stessa cosa quindi ho l'li prendo il div che non è altro che il primo figlio dell'li che sarà anche l'unico prendiamo l'li sono qua su questo li vado a vedere l'attributo first child no scusate non è vero è children di 0 perché c'è anche il testo di 0 e dovrebbe darmi il div children di 0 mi dà il div e questo è il div di questo div io devo andare a prendere l'id alla fine eccolo qua sotto l'id azienda 1 quindi a questo punto ho l'id finalmente che non è altro che div punto id quindi la proprietà id del div una volta che ce l'ho lo nascondo giusto? quindi giro lungo parto dal documento mi faccio dare gli ul dall'ul mi faccio dare gli li li prendo uno per uno ogni li prendo il div che c'è dentro del div prendo l'id una volta che lo di finalmente chiamo id customer description e tutta questa funzione id customer description quando la chiamo la chiamo tutte le volte che faccio uno show prima quando devo mostrare qualche cosa dico prima cancella tutto e poi mostra quello è un overhead potrei cancellare solamente quelli che sono attualmente visualizzati ma per ora vediamo già di farla funzionare così allora vediamo torniamo al browser ricarichiamo clicco su pinco è comparso clicco su pinco pallo eh non ha funzionato quindi la idle customer description per qualche motivo non funziona e qui comincia il bello perché dovrei capire perché non funziona sbagliato qualcosa di sicuro questa qui la chiamano idle customer descriptions allora per farlo di nuovo posso usare il favoloso firebug e posso mettere un breakpoint dentro il codice javascript questo è favoloso perché altrimenti c'è da impazzire allora posso tornare nella pagina quindi con firebug ho selezionato script e lo script mi fa vabbè in questo caso c'è solo un file javascript se no potrei selezionare quelli che vengono richiamati e ho messo un breakpoint che è la prima istruzione di idle customer descriptions quindi quando io clicco su un nuovo nome perché non me l'ha fatto ok è stato l'esecuzione è stata interrotta e io entro in modalità debug sul javascript e quindi vediamo cosa succede qui ho il debug step into step over vuol dire entra dentro la chiamata funzione oppure esegui la chiamata funzione qui sono sulla toggle customer devo entrarci qui sta andando sono dentro la toggle devo scoprire se questo elemento è da visualizzare o da nascondere e decide che deve fare lo show e fin qua lo sappiamo sono dentro la show come mai è la versione vecchia dello show perché non c'è ancora la chiamata a idle perché non l'ho salvato ok da capo ricarica funziona funzionava semplicemente non avevo salvato il file l'ultima modifica allora questo è un modo faticoso si lavora direttamente a basso livello con le proprietà degli elementi del DOM è faticoso soprattutto perché se io inserisco un errore di sintassi da qualche parte il browser non me lo dice il problema di javascript è che chi esegue il codice è il browser e tutte le volte che trovo un errore di sintassi di esecuzione ferma l'esecuzione dello script ma non mi mostra nessuna parte nessun messaggio d'errore per cui passo magari delle ore a fare debug come questa volta mi è andata molto bene perché di solito avevo previsto un quarto d'ora si passano delle ore a fare debug per capire che hai dimenticato un punto e virgola o una chiusa tonda e l'editor ti aiuta solo fino a sulla chiusa tonda l'editor ti aiuta però ad esempio sul length che si scrive TH o HT io mi sbaglio sempre su come si scrive e quello non te lo becca perché non esiste un tipo di dato in javascript da cui il compilatore può verificare che quello è un metodo o non è un metodo valido di quell'oggetto e quindi Eclipse prende per buono tutto per forza quindi è un ambiente abbastanza ostile di programmazione da quel punto di vista soprattutto per chi è abituato a java che è difficilissimo fare errori di sintassi che non vengono immediatamente identificati ma a parte quello la parte più critica è la forse estrema fragilità di quanto abbiamo scritto cioè se uno domani decide che questo qui sì sì va bene la descrizione ma prima qua sotto ci voglio mettere il numero di sedi dell'azienda e quindi se aggiungo un altro un altro div un altro qualcosa lì dentro va tutto a pallino perché questo codice javascript è la diretta fotocopia della struttura dell'html così com'è come se fosse congelata per sempre perché io vado a navigare un passo dopo l'altro sembra un po' di guidare bendati tu ti fai stampare le istruzioni da google maps per andare dal punto a al punto b poi oscuri il finestrino ti bendi no ti bendi no perché devi leggere le istruzioni oscuri il finestrino e cominci a guidare vai avanti 120 metri gira a destra prosegui per altri 8 chilometri gira a sinistra se va tutto bene arrivi molto probabilmente trovi un fosso prima o un muro o un'altra macchina ma qui ancora per fortuna non ci sono altri oggetti ostili nel codice javascript stiamo andando avanti bendati sappiamo che sono lì poi dopo ci sarà di sicuro il figlio di quel li sarà un div di sicuro quel div ha un id di sicuro di ul con classe tal dei tali ce n'è uno solo perché se no non saprei cosa fare se no questo codice va scantato fa la cosa completamente sbagliata ok come potremmo fare potremmo rendere questo codice 100 volte più intelligente dicendo sì va bene però ad esempio sarebbe facilissimo per noi comodo dare una classe anche a questi div e così come abbiamo detto al momento del caricamento della pagina tutti i div che stanno in quel posto lì scusate che stanno annidati dentro un li che sono dentro quell'ul tutti nascosti è stato facile abbiamo scritto una regola css è finito lì il problema è che perché l'applicata il browser dall'inizio il problema è che non possiamo dire il browser adesso riapplicala di nuovo a tutti e ci siamo dovuti andare a riapplicare a mano uno a uno e trovarli uno a uno ma non sarebbe impossibile perché in realtà è la stessa cosa che fa il browser trova tutti gli elementi che hanno quella classe che sono guidato in quel modo e applicergli la funzione di nasconderli allora questo lavoro è il motivo per cui useremo uno dei motivi principali oltre alla semplificazione nel codice per cui useremo una libreria javascript per fare il nostro lavoro quindi non scriveremo questo codice qui che mi sono auto inflitto di scrivere ma per capire cosa vorrebbe dire lavorare direttamente in javascript useremo una libreria che vedremo giovedì che si chiama jquery che riduce tutta questa funzione a una riga sola di codice una riga sola di codice che sarà adesso ve la scrivo poi lunedì impariamo a capirla tutta questa funzione che ci ha fatto venire un po' di mal di testa idle customer description in javascript sarebbe semplicemente qualcosa del tipo dollaro virgolette ul punto customers list spazio li spazio div punto hide così fatta che dice vami a prendere tutti gli elementi che corrispondono a questo selettore css quindi questa libreria jquery capisce i selettori capisce il css non capisce solamente il dom un elemento per volta su tutti gli elementi che matchano questa regola css applica questo metodo e hide è uno dei metodi predefiniti una riga poi dentro lui farà questo fa molto di peggio sicuro lo fa in modo più efficiente di noi e non si fa ingannare dal fatto che magari c'è più di un div se ce ne fossero due di div all'interno entrambi corrispondono a questa regola ed entrambi viene applicata l'azione hide quindi alla fine il meccanismo è sempre lo stesso e lo riassumo e poi chiudo con questa figura che magari trovo anche questo è ciò che facciamo sempre tutto parte dagli elementi html su cui l'utente fa qualcosa e questo succede indipendentemente da noi noi abbiamo registrato questa azione dell'utente sull'elemento html genera un evento html e questo avviene sempre poi sta a noi aver registrato un gestore dell'evento per quell'evento per quell'elemento l'abbiamo scritto con onclick uguale anche lì è un po' antipatico quello onclick uguale abbiamo dovuto copiare o tre volte uguale mettendo il nome azuna ci di nuovo un po' di hardcoding lì dentro ci sono di nuovo delle cose che in prospettiva sono difficili da mantenere vedremo che jQuery ci aiuta anche in questo registrare in blocco un gestore dell'evento è un blocco di elementi e fare in modo che ciascun elemento sappia chi è lui ma il metodo è sempre lo stesso devo registrare in qualche modo registrare gli eventi agli elementi della pagina poi quando questi eventi vengono scatenati la funzione viene chiamata e ciò che deve fare la funzione quasi sempre sono due cose trovare degli oggetti nella pagina nel nostro caso il click era sull'LI ma l'azione era di trovare il div perché poi devo modificare qualcosa nel div non nell'LI l'LI non ho mai toccato e quindi read object properties vado a vedere il div attualmente è nascosto o visibile e a seconda di questo modifica alcune proprietà degli oggetti questo se vogliamo è uno schema generale noi impareremo con jQuery a semplificarci la vita 1, 2, 3 e 4 in questi 4 blocchi domani invece lavoriamo su web service c'è già in rete l'esercizio da fare una seconda ora nella prima ora impariamo a costruire un web service che altri possono richiamare quindi il contrario del lavoro che abbiamo fatto la settimana scorsa a domani grazie a tutti